Recupero attivo e passivo, quale dei due è il migliore e quando utilizzarli? Scopriamolo insieme in pochi secondi. Il recupero passivo è una forma di recupero dove il soggetto al termine di una serie o di una ripetuta dovrà fermarsi e attendere un tempo prestabilito prima di ricominciare l'esercizio. Il recupero attivo al contrario, al termine dell'esercizio, il soggetto cambierà esercizio o modificherà l'intensità per riuscire a recuperare. Quale dei due però utilizzare? Beh, la risposta è come sempre dipende. Dipende qual è lo scopo del nostro allenamento. Se il nostro soggetto avrà come obiettivo l'ipertrofia muscolare, il recupero passivo sarà la forma maggiormente congeniale. Al contrario, se il nostro obiettivo è quello di smaltire più rapidamente l'acido lattico accumulato, allora in quest'ultimo caso adotteremo una forma di recupero attiva. Ma per maggiori approfondimenti lasciamo come sempre in descrizione un articolo. Se vi è piaciuto il video mettete un like, condividetelo e noi come sempre ci rivediamo presto. Ciao a tutti!